salve a tutti e ben ritrovati dal vostro joe siamo di nuovo su fan fantasy dissidia opera omnia versione giapponese perché oggi è ferragosto ovviamente quindi buon ferragosto a tutti ma al tempo stesso oggi nel jap esce un qualcosa di veramente grosso esce diablos ultimate quindi finalmente abbiamo la possibilità di poter portare a livello 30 il nostro diablos abbiamo l'opportunità di poter farmare risorse e ovviamente farmare in generale con tutti i nostri personaggi sia per la nuova modalità di farming grazie appunto alla banca dati chiamiamola così e sia anche perché adesso è tutto più semplice prendiamo più punti durante il farming e poi possiamo ridistribuire gli altri punti agli altri personaggi il che è una cosa a mio avviso semplicemente perfetta allora andiamo a leggere un attimo tutte le news tutte le info anche perché oggi è una giornata abbastanza particolare e adesso capire del perché allora partiamo dalla prima notizia che dovrebbero essere le gemme in sconto esatto quindi anche in questo caso abbiamo al solito i pacchetti di gemme scontate poi rerun del costume di kuja che è un super sinergico di questo evento quindi tanta roba avere anche kuja finalmente da poter riutilizzare visto che comunque io ce l'ho ce l'ho maxato quindi con la scusa è buono qui invece abbiamo il banner di diablos guardate che figo con tutto il colore questo questo color viola tutto bello acceso tutto bella figata assolutamente una bella figata e poi abbiamo diablos che finalmente arriva a livello 30 non so effettivamente ancora cosa fa vediamo se andiamolo a vedere così in in diretta vediamo se già è stato aggiornato sul portale di sidia db diablos a livello 30 sì è arrivato è arrivato ed è aumenta 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 l'int brave del 30 per cento e perennemente perennemente busta l'elemental weakness attack del del 30 per cento dovrebbe essere quando gli hp scendono al di sotto dell'ottanta per cento quindi effettivamente non saprei cioè far scendere gli hp al di sotto dell'ottanta per cento ormai è abbastanza difficile nel gioco perché comunque è difficile che tu possa subire danni però diciamo che l'elemental weakness ormai nel nostro gioco nel nostro meta è quasi fondamentale in alcune situazioni ti permette di uscirne veramente veramente in maniera pulita ed eccezionale quindi va bene va bene ci può stare allora banner dei super sinergici con la ex di kuja plus ovviamente la ex di sabine sempre in e van invece con 15 e 35 di questo banner a me tecnicamente mancherebbe la ex di sabine se proprio dobbiamo essere onesti ma non un punto ad ottenerlo e poi invece ragazzi la main batch ovvero la batch fondamentale di questo evento con la fuoriuscita della ex di huacca e la ex plus di aelith ora non so effettivamente huacca cosa faccia perché è uscito il video questa notte però io non l'ho visto ancora quindi lo vedrò molto probabilmente dopo questo questo nostro video e poi vedrò effettivamente che cosa gli hanno migliorato e come soprattutto sia buono o meno huacca perché non ne ho assolutamente idea abbiamo anche di us finalmente disponibile con 15 e 35 io di queste di sedie di eris che di di us o anche l'ex però ovviamente non portate a plus questo ci mancherebbe e huacca che invece non ho assolutamente nulla quindi potrebbe essere un'occasione anche per buildarselo ma personalmente non credo io voglio andare a pullare più di tanto cioè oltre la free pool non voglio diciamo non voglio addentrarmi nel buildare un personaggio da zero qui ovviamente abbiamo tutti i rework abbiamo tutto tutto l'adjustment di huacca e di eris e poi per il momento basta così perché oggi vi ho detto che è una giornata particolare perché se noi andiamo nella sezione delle batch abbiamo una due e tre free multi oggi oggi possibilità di avere tre free multi quindi tantissima roba a disposizione per tentare di ottenere qualcosa e ovviamente fare anche dei pull perché comunque ottenere power stone ottenere questi pull gratuiti ci aiuta veramente veramente tanto allora io dovrei avere un ticket esatto lanciamolo così giusto per inaugurare ok tanto per inaugurare questo video di pull inaugurare anche la batch e cominciamo a pullare oggi eccezionalmente vi porterò anche il pull giornaliero del mega banner presente nel gioco sto registrando le varie clip che poi unirò e monterò a parte quindi uscirà un video proprio fatto a parte con tutte le pull che faccio singolarmente ogni giorno da questo banner oggi in via del tutto eccezionale visto che stiamo affrontando il discorso di diablos ve lo porto cioè vi metto anche questo diciamo vi metto anche questo pull quindi cominciamo da questo che diciamo è il pull meno diciamo meno grosso rispetto agli altri no vediamo cosa succede cambio veloce ricordo che io da qua addirittura cerco soltanto pesi il come x quindi le altre x per me sono inutili va bene cinque power stone che sono assolutamente graditissime perché queste sono cinque power stone si sono assolutamente cinque power stone però 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 va bene va bene sono ottime ragazzi veramente sono ottime ripeto da questo bacio io cercherei soltanto pesi il qualora dovessi riuscire a scularlo altrimenti poi amen seconda multi seconda bacce cuja e sabine insieme con x plus prima multi gratuita vediamo che cosa otteniamo allora non c'è stato nessun loading io l'ex di sabine comunque l'ho già vista l'ho scaricata quindi potrebbe essere anche quello ma credo proprio di non aver trovato nulla di nuovo che da un lato mi fa tirare un sospiro di sollievo molti e molti bronzi molti bronzi per attenzione 35 divan e 15 divan quindi altre due power stone in totale già siamo a 7 power stone quindi direi ottimo mi posso praticamente maxare in questo caso shadow perché di shadow ho già maxato la 35 adesso devo maxare soltanto la x non credo di portarla a viola però per il momento perché voglio aspettare però posso già maxarlo il che è tanta roba e adesso dulcis in fundo ultimo banner con eris e wakka ok nessun nessun downloading nessun quindi wakka non l'ho scurato va bene sono felice cambio al 5 sono due eris già ce l'ho va bene ok una ex l'abbiamo trovata una ex dalla free multi l'abbiamo trovata è la prima ex che trovo da free multi in questo in questo momento è tra l'altro è quella di erif che già avevo quindi va bene non è non è un problema vuol dire che effettivamente dovrò riutilizzarla usciamo e andiamo a vendere queste armi perché ovviamente le possiamo andare a vendere tutte compresa compresa la ex perché non è assolutamente un'arma che mi interessa quindi abbiamo già 8 power stone con le 7 che avevamo prima sono 15 sono ben 15 power stone che siamo riusciti a farci in un giorno che sono sono tantissime dove appunto dovrei maxare effettivamente sì sì max ho la ex di shadow è inutile che max ho la 35 di beatrix per poi rivenderla perché stavo calcolando appunto che tornerei a 3 più le 4 power stone della 35 arriverei a 7 quindi non mi diciamo non non mi andrebbe bene e quindi ci maxiamo shadow vediamo eccolo qua ah che tra l'altro già un limit break ce l'ho quindi effettivamente effettivamente mi servono solo 8 power stone e se ne uso 12 no e arrivo a 7 sì però effettivamente devo vendere anche la ex di eris quindi quindi aspetta 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 no sto facendo aspetta aspetta non avevo non avevo considerato il fatto di avere già un pallino su non avevo considerato di avere già un pallino qui così questa la possiamo vendere e intanto sblocchiamo anche la sua abilità la ex di eris la possiamo togliere perché tanto già ce l'abbiamo esatto 8 power stone e ci possiamo maxare anche shadow ritornando ovviamente a 0 power stone questo è il minimo però vedete finalmente abbiamo anche shadow maxato benissimo signori per il momento io direi che possa essere tutto perché non faccio altro al momento farmerò diablos come se non ci fosse un domani poi probabilmente registrerò la chaos ma questa sarà una registrazione che farò più in là quindi non la farò adesso e poi niente per il momento è tutto quindi vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci vediamo alla prossima